Buon buon giorno a tutti e a Tocco Party. Oggi buoni giovedì. Studiamo già presi insieme. Questa quattro stessima la lezione. Continuiamo con le proposizioni e le posposizioni e siamo arrivati alla terza delle posposizioni. Le posizioni sono un po' tante, dicevano quattro, a che ciprezzano. Comunque continuiamo. Prima di iniziare voglio dire una cosa che parlare di giovedì, di martedì, non so se avete visto, se seguite la mia pagina Facebook che sapete se metto sempre la luce, quindi ieri ho messo la luce che non ho messo sul canale YouTube, la navide che ho fatto mattedì, perché purtroppo non funziona bene l'audio, quindi non ce l'ho messa. C'è ancora con l'audio, non ce l'ho messa, quindi... perché come ho detto l'altra volta ho comprato il... ho comprato un microfono nuovo, un microfono nuovo e l'avevo messo su, appunto, collegato con OBS e sembrava che funzionasse. Però ho cominciato quando ho fatto, quando sono dato la scarica a live, da Twitch, che io live non non ho registro direttamente, però c'è chi registra direttamente con OBS, non ho metto file live, metto trasmettere direttamente, ma registri anche, però io me la faccio perché il computer, non so se mi tiene, mi consuma troppo il cipre, dopo mi si può bloccare. Quindi io scarico l'audio, che una volta finita l'audio lo scarico da Twitch. E ho messo colto che l'audio, cioè Pastorsi, non si sentirà bene, quindi ho ricontrollato, l'ho visto sulle impostazioni di OBS che io non me l'ha accorto. Per l'audio mi dava la frequenza di campionamento di 48 kHz. Invece il microfono mi sopporto sulla scala, c'è scritto 44,1 quindi mi sa che era quello che dava il problema. Adesso, l'ho corretto, adesso davo 44,1 kHz ho messo lì, dovrebbe funzionare bene, dovrebbe sentirsi bene. Spero che si senta bene, che non si unia tra l'arri di salvo con se qua. E niente, quella lì, quindi io non ho messo ancora, si trova qui su Twitch, non l'ho lasciata, però adesso lascio lì tanto. La decisione eliminata la lascio stare. E domani la rifaccio non in live, cioè la registro da solo, quindi su computer mi da registro e poi la metto sul canale YouTube, quindi dopo sta sempre qui sul canale YouTube, quindi la rifaccio con l'audio corretto e speriamo che si senta bene in quel caso. E quindi niente, speriamo che funzioni dopo. Tanto speriamo che funziona questo, questa lingua. Adesso c'ho un bidoforo qua, perché ho fatto questo bidoforo nuovo, lo tengo qui vicino alla postazione, dove scrivo qui vicino a computer qui, spero che si senta bene, che non posso comunque tenere davanti la faccia perché mi sarebbe più per scrivere, quindi, cioè, troco più davanti la tastiera, ci vediamo, dobbiamo scrivere, scusa. Il programma qui qui, spero che si senta abbastanza bene, lo tengo qui all'alto qui, lo tengo qui di fianco, è abbastanza vicino al viso, quindi, però, più di tanto posso tenere davanti, perché so, non posso scrivere, insomma, lo scrive sul computer. Quindi, speriamo che si senta bene che funzioni, che non faccia gli sbarzi che ho fatto l'altra volta, l'importante si sente magari un po' basso, ho alzato un po' l'audio, perché non è efficissimo, come ho detto, il microfono è proprio da parte la faccia qua, insomma, è abbastanza vicino. Però che funzioni bene che si senta, l'importante è che non faccia i salti di audio, quindi, se sei sempre un po' basso, alzate un po' l'audio, e vai via cosa non posso fare. E adesso, insomma, vediamo se funziona il chatbot, il chatbot, l'ho attivato e lo può funzionare. Allora, vediamo un po', funziona. Sì, allora, il chatbot funziona. Qui sono vari comandi, e poi questo è il libro che se volete sostenere il mio canale, potete acquistare il mio libro, lo trovate su Amazon. Sono solo 5 euro, come una sub. Io ho sempre ancora, sono affiliato al canale, perché appunto gli iscritti sono pochi, quindi, come se andate ancora affiliato, mi posso, non posso anche, voi stessi non potete fare delle sub, quindi se volete acquistare il mio libro, lo trovate appunto su Amazon. Oppure potete fare delle piccole donazioni. Sempre per sostenere il mio canale potete fare delle piccole donazioni qui su Amazon. Stringa, oppure su Coffin.com, qui ci sono appunto i link. E poi diventare, insomma, seguitori, follower dei vari canali. Così, ammettiamo più solo, meglio. Quindi questo è il suo canale, appunto, il canale YouTube. Devo pubblicare un livello, questo qui dovrà essere spiegato, dovrà pubblicarmi. Se va bene che l'audio funziona bene, allora è pubblico. Speriamo che funzioni bene, perché appunto. Io sto sentendo il retorno di cuccia e sento abbastanza bene qui. Devo funzionare. E quindi domani è pubblico su canale YouTube. E poi c'è la pagina Facebook. Commento qui, tenete sempre la pagina Facebook. Tentate. Seguita anche la pagina Facebook. Basta che mettete mi piace e automaticamente tentate. Seguitori della pagina Facebook. Così potete sapere quando faccio il live. Se faccio o non faccio. Quando pubblico i vari video su YouTube. Trovate tutto lì. Vai a pagina Instagram. Dovete trovare i disegni, i vari foto. E la mail. Probate che io ho i video. Quindi se volete mandare dei messaggi anche privatamente. Potete trovare da lì. E naturalmente potete chattare i live. Quando sono in live. Potete scrivere. Potete scrivere. Potete scrivere. Intanto butto l'occhio. Ho un po' di difficoltà a guardare la live. C'è un biografo che mi parla l'altro computer. Non vedo. Vedo. Però intanto mi sposto un po'. Per vedere appunto la chat. Comunque la vedo. E niente. Allora. Ho letto tutto. Si. Ok. Quindi. Iniziamo. Allora. Tanto apriamo il programma di scrittura. Allora. 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 Ok. Quindi. Iniziamo. L'abbiamo fatto con il node. L'ultimo. L'ultimo. Osposizione. Che abbiamo fatto. L'altra node. Quindi. Presciutto. Da un verbo. Da un aggettivo coniugato. Introduce. Una proposizione causale. Qua ci sono i vari esempi. Adesso facciamo il top. Vedi. Altra posposizione. Che è una. Molto. Molto usata. Questa. Infatti. Adesso. Vediamo. Oggi. Quanto. Riesco a farne. Facciamo. Io penso di farne. Quattro o cinque. Adesso vediamo. Adesso. Dopo. Facciamo anche i segnaggi. Vediamo se c'è tempo. Allora. Iniziamo. Allora. Un momento. Il top. Si usa. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Organizzato. Un momento. Tagline. Zap 2020. I best large. Si usi. Controllare. Si. lipid. Un momento. Eli. Torni. Un momento. iniziamo subito. Allora, iniziamo con il TO. Abbiamo detto, iniziamo con il TO. Allora, prima cosa che si usa per il TO. Allora, indica il complemento di compagnia, quindi TO, compagnia. Infatti, il TO vuol dire CON, è il primo uso che si fa, il primo significato che ha il TO è CON. Quindi, indica, ah, scriviamo, mi sono dimenticato di togliere il grassetto. Allora, scriviamo, indica, il complemento di compagnia. Ok, compagnia. Non so che si sente anche a battere, anche qui si sente a battere, senti poi, il microfono proprio qui vicino, qui si sente. Non so, batte i tasti. Allora, no, compagnia. Ok, allora, quindi, vi iniziamo qua, compagnia, complemento di compagnia. Ok, adesso vediamo l'esempio. Allora, qui dà due esempi. Allora, MAIOTO, MAIOTO, SHOKUJI O, SHIMASHITA. Ho avanzato con MAIOTO, quindi CON. MAIOTO, CON MAIOTO, CON MAIOTO. Японese, ok. Ora che si tr Ok, adesso scriviamo Romaji, cioè la trascrizione della caratteristica della lingua giapolese. Dato che passo, passo un attimo intorno in giù, se mi chiede un po' così. Passiamo un po', se non mi sento dentro la testa che mi parlo, allora, so... Quindi in italiano, ho avanzato con Mario, ho avanzato, ho Mario, ho Mario, ho che appena ho messo... Aspetta, andiamo tardi, io per distinguere solo le frasi, non si capisce dove inizio le frasi. Allora, la seconda frase vi ho detto che il nuto è Sampo Uoci Mas, passeggio con il cane, col cane. Cioè, con il cane, però, dice, la votazione è saluta in italiano con il cane. Quindi, già pensi al vino, cliccare, no, to, Sampo, Sampo, vediamo se mi vuoi dare. Sampo, siamo su questo qua, Sampo. Controvo sempre se il computer mi dà, perché c'è troppo da... Sampo, siamo su questo qua. to into sample 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 Sampo, shimasu, shimasu, ok, quindi tagliamo il passeggio quel caso, ah qua ho iniziato le varie cose, quindi ma io to, o to, con maio, ho pensato con maio, ho pensato con maio, quindi, complemento il compagno, e qua, inuto, sanpo, shimasu, quindi inuto, inuto, col cane, il passeggio col cane, quindi complemento il compagno, ok, allora facciamo qui, ah facciamo il secondo, secondo uso, secondo uso, e inuto, in certi casi assumo il significato di contro, in certi casi, assumo il significato di contro, quindi iniziamo contro, ok, adesso vediamo l'esempio, in giro pagina, allora, esempio, dove è? In Giappone ha fatto la guerra contro l'America, senso è la guerra, vuol dire, senso è la guerra, cioè fare la guerra, quindi, contrario, contro, contro qualcosa, sì, quindi, in Giappone, quindi, in Giappone, contro, america, americato, americato, senso è shimashida, io ci accadillo, come sempre, allora, 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 sono ritirato di togliere il cassetto, allora, 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 e allora, allora, c'è? si, ecco, web, non, oa, america, 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 to, senso, 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 fru, dire, guarda, intanto vi cerco se è il kanji giusto, allora, ecco qua, sì, come c'è, bisogna guardare, non tornare ogni volta perché non è sempre compiuto il kanji, giusto perché non posso sapere compiuto quello, hai paura, tu intendi, ci sono sinonimi, quindi magari da una paura che non è quella giusta, allora, ecco, senso, war, shimashita, shimashita, punto, quindi, via, ma c, di, on, on, america, oa, k, lo scrivo, america, oa, k, to, senso, senso, allora, con la o allungata, senso con la o allungata, allora, su cerchiamo la o allungata, dov'è, 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 dov'è. Allora, senso, cuorga, si sente bene, si, si sente un po' basso, spero che si sente bene, perché guarda anche più tanto. Spero che questo microfono funzionasse, no? Come facciamo? Questo microfono? Allora, senso, cuorga. Eh, shima shi, shima, shi, tac, così, no? Perché se non funziona qua, mi ha toccato una microfono del telefono, ho speso i soldi, guarda, neanche ho speso molto e mezzo, ho speso una volta. E poi dovrebbe funzionare, guarda qua, in Giappone, in italiano, in Giappone, ha fatto, guardate come trova l'America. Guarda, 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 guard Ah, ecco il piano. Paglia sta. Cos'è la data? Ok, dipende. L'America. L'America, ok. L'America. Non vedete il tasso giusto. Quindi, in certi casi assumi il significato di foto. Terzo modo di usare. To. Terzo modo di usare to. Allora. Diamo un po', terzo modo di usare to. Può indicare separazione, nel senso di allontanamento. Quindi, un attimo qua. Allora. Siamo. Aspetta qua. Facciamo spazio, ci sono tutto attaccato. Ok. Quindi. Può. Indicare. Indicare. Separazione. Nel senso di allontanamento. A. 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 Ok. Quindi. Separazione. Adesso. Adesso vediamo. Il solito esempio. Adesso vediamo. Parlo ad esempio. Vediamo che semplice. Allora. Ehm. Kaito. O. Wakai. Ma shita. Mi sono separato da lui. Quindi. Kaito. Da lui. Kaio. Vuol dire appunto lui. Ehm. A le altre persone. Ah. Spero che. Che non sappise. Ehm. Se non ci sono. Non scusi. Ok. Allora. Scriviamo. Kai. Kai. E la persona. Scriviamo. Kai. Kai. Kaito. e wakai mashi wakai mashi questo va wakai mashi mish wakai mashi ok ok mi sono separato da lui ok sono separato da lui il quarto modo di usare è il TO si usa per unire due o più sostantivi quando la numerazione è completa cioè sempre contare quando si conta si fa TO 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 ogni cosa che si dice si conta quando la numerazione è completa nel senso che apriamo ad esempio un esempio fa un libro e una penna oppure dopo dice TOKYO TO KHYOTO e KIMASI vado a TOKYO e a KHYOTO quindi quando la numerazione è completa si intende due cose o tra le cose, quattro 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 allora si mette TO 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 dopo le date se invece la numerazione è completa c'è un altro modo di dire dopo vediamo cioè magari si contano tre cose su dieci allora non si mette TO 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 ma si mette un'altra posposizione allora qui scriviamo questo allora si usa si usa per unire unire due o più sostantivi due o più sostantivi due o più sostantivi sostantivi due o più sostantivi quanto? eliminazione completa quanto? eliminazione completa due o più sostantivi unire 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 esчит собственно ora vediamo che� esempli che abbiamo adesso allora Allora, on to penne. Il libro è una penne. On to penne. Ok, on to penne. Quindi penne è scritto nella catechana perché le parole strane da inglese penne, no? No, niente. Allora, quindi stiamo on to penne. Quindi un libro è una penne. Un libro è una penne. Ok, adesso. Allora, la seconda frase vi ho detto che è Tokyo, Kyoto e Ikimasu. Vado a Tokyo e a Kyoto. Quindi due città diverse. Sono due città, quindi quel to. Le due azioni complesse sono due città soli, quindi entrambe. Quindi abbiamo detto Tokyo, Tokyo, o Ikimasu. Allora, adesso qua non mette. Sul libro non c'è scritto quelle o allungate, ma ha scritto quelle o allungate perché sennò non viene bene il cange. Tokyo, 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 Tokyo e Kyoto invece. Tokyo, Tokyo, Tokyo. Tokyo, 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 Tokyo. Così, però. Tokyo, 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 Tokyo. No, possiamo andare? Un po' questo. Qui si fa. Adesso. Adesso. E' un po' perchè. Un po' è quello che poi abbiamo fatto. Un po' destra Un po' questo. Un po'. Un po' il fatto. Un po'. Un po'? Un po'. Un po'. E' un po'. Un po'. Un po'. Un po' di pa'. Un po'. io scrivo senza lettera allungate perché aveva scritto un lettera allungate però in Italia ho ci scrive senza ita in vario in Tokyo Tokyo Kyoto e Ikimasu ok quindi in Italia ho avuto vado a Tokyo e a Kyoto oggi mi sto dimenticando di segnare le parti data oggi mi sono dimenticato di segnare le parti di evidenziare le parti quindi questo qua è appunto no? quindi è americato qua mi sono dimenticato di evidenziare le parti giusto scusatela contro la me l'ho dimenticato qua giù invece sei pazzo è il contro calito anzi calito scusatela mi sono dimenticato valuto valuto quindi no togliamocelo qua on to pen quindi qua semplicemente il to si evidenziare il to che appunto è weird e quindi e sarebbe la concezione e quindi il to di essere a con che e di solito o con to insomma il significato più principale è o con o e l'ho dimenticato e lo stesso sempre il to quindi se solamente il to quindi e va da toggio e a chiodo qua ho scritto toggio male ok toggio e guacoccio ok poi e questo è il fatto ora vediamo un altro modo si fa si usa per fare un confronto si usa per fare un confronto quindi questo è il 5 no 5 5 quinto modo in cui si usa to ora si usa per fare un confronto iniziamo con rote ah confronto vediamo gli esempi allora è simpile l'ho dimenticato l'italia dimenticato l'italia dimenticato chigai maso i giapponesi e gli italiani sono diversi in fase spontanea vabbè sono le fasi delle grammatiche quindi c'è il toggio che appunto si fa un confronto tra una e l'altra tra i giapponesi e gli italiani che sono diverse quindi si chiama l'ho dimenticato l'hono dimenticato l'hono dimenticato sono appunto persone giapponesi e italiani quindi l'italia dimenticato c'è l'ho dimenticato l'italia dimenticato l'italia dimenticato l'، lo roma l'ho dimenticato l'ho dimenticato si chiama il c'è l'i ecco questo gai e audio e oggi mi scordi di rinanzare le cose quindi scriviamo i roncini i roncini i roncini i roncini l'italia cina 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 è massimo cina massimo ok quindi italiani sono diversi 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 ah quindi realizziamo i due nuovi punto confronto e farlo i bioncini i gianni e gli italiani sono diversi ok L'altro esempio, c'è un altro esempio, allora ALE è uguale a COLE TO ONACIDES, quello è uguale a questo, ALE è uguale a questo, il confronto è da questo e quello, ALE è quello, e COLE è questo, e TO, quindi ONACIDES è uguale, ONACIDES è uguale. E . un po' ti ricercarci colto un'acidesa 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 e quindi tagliarlo quello è uguale a questo quello è questo questo ok adesso iniziamo i parti dai colto qui colto quindi confondano dai e colto a questo e quello a questo quello qui allora è uguale a questo a questo a questo ecco qua ok ah si poi sesto modo sesto caso in cui si può usare to ho detto che sono tali sono otto un sette otto sì otto casi se 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 ecco qua seguito da ui da iu anzi seguito da iu corrisponde all'italiano si dice infatti serve per il discorso diretto serve si dice to iu to iu to iu quindi seguito seguito al sospetto iu corrisponde all'italiano si dice si dice si dice si dice quindi iniziamo qua io io si dice ok si dice oh come lo dai ecco il cassetto direttiamo esempio parola nihongo de grazie wa nan to rimasuka la domanda sempre deve mettere di dare inclinazione della domanda alla frase come si dice grazie in giapponese e poi c'è la risposta arigato to imasu si dice arigato to to imasu si dice si dice prima to e poi imasu cioè imasu sarebbe appunto il verbo iu declinato in forma gentile quindi c'è la domanda risposta allora nihongo de grazie wa nan to imasu ka come si dice grazie in giapponese mi ho go 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 d adesso qua è un po' complica iscrivere grazie che lo scrive in cataglia, perché sennò parola stagia scrive in cataglia. O l'altro scrive. Ah, vabbè. Allora, io te, adesso voglio non si lo scrive. Ora, qui. Non mi ricordo dove sono, perché... No, non è qua. Ci tocca andare a cercare le virgolette. Aspetta, scrivo un po' le cose così, perché devo cercare in due. Ok, non mi ricordo dove sono. Ho metto la tastiera, quando si mette la tastiera in... già poi si cambia, alcuni tasti cambiano. Ma questi sono i punti. Dove sta i virgolette? Ecco, lo posso trovare. Ma poi si parla da posto. Non trovo. Ma ecco, l'ho trovato. Ecco, l'ho trovato il virgolette. La virgolette è la... è la... o la posto. Quindi, tagliamo. L'apro posto con giapponesi diventa la virgolette. Ma si mette la tastiera in giapponesi. Quindi, adesso scriviamo. Grazie. In cataglia, adesso mi viene. Mi riesco a scrivere. U A U U U C U 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 questa rai deve essere scritta più piccola perché da al su da al su diventa z il z non esiste in giapponese quindi si aggiunge la rai piccoletta diventa z quindi qua no adesso non mi scrive più in la gara ecco qua qua un altro imasca un altro il punto di spazio non metto di data come detto le frasi interrogativi non c'è bisogno di il punto di spazio il punto interrogativo in giapponese basta che ricerca si può anche dimettere che il punto interrogativo esiste in giapponese poi si può anche non metto basta che ricerca il k fa diventare la frase fa diventare la frase interrogativa allora qui adesso scriviamo il dato in Roma 5 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 come si dice grazie in giapponese o si o si si o o o o o si o si si o o o a o o o si o o o o o en Arigato, un, to, arigato, to, arigato, to, imasu, imasu, punto, quindi arigato, arigato, o, diciamo la o allungata, adesso cerchiamo qua, la o allungata, eccola qua, su caratteri speciali, arigato, to, imasu, quindi si dice arigato, si dice arigato, 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 to, intanto evidenziamo qua le patiche, non mi sono dimenticato, to, imasu, to, imasu, to, imasu, quindi si dice, si dice, ecco, qua giù, to, imasu, sempre, to, imasu, si dice, arigato, ok, questo ne ho fatto, ne ho fatto un po', ne ho avuto un po' perché appunto non si trova bene, le virgolette, vuoi trovare la tastiera quando si usa, quando si comparte la tastiera in italiano, la tastiera in japonese, il problema è di andare a trovare, con i caratteri speciali che sono messi disposti in modo diverso, quindi le virgolette sono nella A, la A accentata, quindi quando mette la tastiera in japonese, la A accentata diventa la virgoletta, Aperti, e chiusi private, Aperti, e chiusi, mi metti, Paraglio al 7, quindi il settimo modo, allora, a settimo modo per usare il ton, In tradut子 di discorso indietro mu fastiduliamo qui con 87 suc extriciónsibitano, con verbi come omou, anasu, iu, kicku, etc. Quindi si dice però, insomma, il significato di quelli participe, o si dice, grazie, come si dice, bravo, introdite il discorso indietro, Abilito dice il discorso indietro e indietro converte come omow, vuoi di pensare omow a naso, a naso vuol dire raccontare a naso, sì a naso raccontare, mi ricordo che a naso raccontare, i voi dire, e qui qua, a tale, no, si pete, i qui qua, o no, ti ho chiamo, tu sì, ascoltare, ascoltare sentire che è la mia, ascoltare qui, mi ricordo, mentre a naso, è l'oggetto che è, a naso, non parlai, non parlai, non parlai, 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 accontai, anche, anche accontai, quindi parlai, omow a pensare, a naso parlai, io e dia e qui qua, ascoltare, io e qui qua, eccetera, 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 allora, quindi iniziamo da parte, questo iniziamo, così, perché sono parole in giapponese, un'unica discorso indietro, un'unica discorso indietro, un'unica discorso indietro, adesso andiamo ad esempio, in questi sui libri si trova spesso quanto vuole, c'è discorso indietro, quando c'è un personaggio che parla, c'è un'unica discorso indietro, quindi dice, il personaggio dice, e dopo un'unica discorso indietro, qui si dice, to, allora, esempio, penso che la salute sia la cosa più importante, quindi io penso, to, allora, io penso, è una cosa semplicemente, che è un'unica discorso indietro, quindi si ha, ok, 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 itib профессora digital, ok, 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 agora, içinde, bada ecco qua c'è quello, lo vedevo ecco qua daji dai si da to o che basta to o o o o o quindi i romaci kenko kenko o lukata kenko o lukata o lukata ok e i kwa i kipani i kipani i kipani i kipani la prima cosa quindi non stai a vedere il conto se è la prima cosa che potrà i kipani daiji 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 amito omo imaso omo imaso omo imaso omo imaso omo imaso finito a unica i kipani penso penso che a santa sia 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 la cosa sottinteso cosa più scritto è sottinteso cosa più importante quindi quindi io penso penso che il discorso indietro la salute la salute sia la cosa più importante daiji sembra la salute daiji daiji omo imaso omo imaso omo imaso accorso un'altra cosa allora un attimo qua sto confido che si può presente proprio su perché tolgo subito un attimo non ce l'ho a due metri di distanza quindi non devo spostare niente ok 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 una notic no come io ho capito perché si blocca si blocca sempre che c'è questo lato linux è c'è il se ma se vale intera un po' così. Allora, guardate una cosa, qua funziona l'audio, passa a guardare se funziona. Ok, non c'è paura che non si sente, dunque ritorno di cuffia al centro. Allora, in questo abbiamo fatto discorso indietro. Faccio anche un altro esempio, c'è un altro esempio, quindi, sempre discorso indietro. Lo l'ho visto sull'altra faccia. Shizukara seyo iguale mashita, è stato detto di fare silenzio. Shizukari seyo to iguale mashita, è stato detto di fare silenzio. Sempre discorso indietro, quindi Shizukara qua mi sa che oggi, vediamo fino alle 6, perché qua siamo un po' evidenti. Il to uguale mashita, uguale mashita, uguale mashita. Andiamo giù qua, no, è tutto scherciato in italiano. E' stato detto di fare silenzio. E' stato detto di fare silenzio. E' stato detto di fare silenzio. Ok, ora passiamo all'ottava. L'ultima cosa, l'ultimo modo in cui si può usare. Ok, ora passiamo all'ottava. L'ultima cosa, l'ultimo modo in cui si può usare. presieduto dal presente indicativo del verbo. Significa quando, mentre, si. Quindi presieduto dal presente indicativo del verbo. presieduto dal presente indicativo del verbo. Significa quando, mentre, si. Si. Quindi, iniziamo questo qua. Quanto, mentre, si. Quindi ha tre significati. Adesso diamo un esempio. Allora, qua ci sono tre esempi. Ti dà le varie le tre parole diverse. Allora. Haruga kuru to, hanaga e sakimasu. Quando arriva la piavea, i fiori sbocciano. Quindi, il to, kuru to. Haruga kuru, che quando arriva, la piavea, la piavea, kuru arriva. Hanaga sakimasu. I fiori sbocciano. Adesso i fiori e sakimasu li sbocciano. Quindi. Haruga kuru. Haruga kuru. Kuru. Quanto arriva, il to. Quanto arriva, il to. 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 C'è il kuru. Che è indicativo. Voi senti indicativo. Kuru to. Har. Il to. Il to. Il to. Il to. Il to. le fiori non me lo dà sto cercando perchè non mi dà perchè non mi dà no non mi dà capisco perchè non mi dà conto a hana lo avete tutto qua con la fase hana ecco mi dà tutto con la fase specifica non so perchè hana ga sakimasu hana ga sakimasu hana sakimasu vediamo se c'è il kanji giusto spiega così questo compito deve un po' privare ecco qua sakimasu vuol dire fiorire sbocciare quindi hana ga sakimasu hana ga sakimasu abbe ha ga cu ton hana ga sakimasu suburban s dreaming vittajari le demetto quando arriva via題 i bore内 sbocciano henri no, 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 sbocciano, 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 ok. Allora, iniziamo i partiti, punto, punto è il verbo indicativo presente, ho ricevuto la to, vuol dire quando, in questo caso vuol dire quando, quindi, quando arriva, cioè, curvo di arrivare to, mi fa diventare quando arriva, ora, vediamo un altro esempio, no, vediamo che c'è, sono tre esempi per tre parole, quindi quando, mentre c'è, quindi, ora c'è, Mentre studiavo, è venuto mio padre, quindi, Mentre studiavo, cioè, mentre studiavo, to, mentre studiavo, Mentre studiavo, cioè, stavo studiando, Cici, Gakita, e il papà è arrivato, è arrivato mio padre, Cici vuol dire papà, quindi, i propri padri, ne abbiamo visto, ne abbiamo visto, ne abbiamo fatto, ne abbiamo fatto, ne ho, dei, dei, dei nomi, dei, dei famigli, dei nomi, dei nomi familiari, no, padre, madre, zio, zia, padre, sorella, tutti, credo, in Cici, ci vuol dire proprio quale, ah, quindi, si, ha, allora, bencio, bencio, più, bencio, vediamo se è tutto, uscite io, cici, ecco, uscite io, come qua, cici, 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 quindi, è arrivato, quindi, è che sembra passato in curva, è passato in curva, cici, cici, allora, cici oggi, bene, chi, oh, con la orgata, vecchio, quindi, scriviamo, A orgata, vecchio, cici, Quindi mentre studiamo, mentre sarebbe stavo studiando, è venuto mio padre. Ok, si sente bene il microfono? Sì, spero che si sente bene perché mentre microfono è un nuovo, quindi spero che funziona bene. Allora, quindi scriviamo e tagliamo. Mentre studiamo, mentre studiamo, mentre studiamo, è venuto mio padre, mio padre. Adesso, iniziamo da due parti. A suo fatto sì. Allora, vecchia uscita io trovo. Quindi mentre stavo studiando, va qua. Mentre studiavo. Cioè però c'è il senso del dividere, quindi mentre stavo studiando, c'è bene. Ok. Quindi adesso studiamo l'ultima frase con il Se. Hayaku Okinaito Gakuni Ikuremasu. Se non ti azzi questo, farei tardi a scuola. se non ti alzi. Okinaito, quindi se non ti alzi. Okinaito è pronto il negativo di alzarsi. Okinaito. Gakuni. Oculemasu. Farei tardi a scuola. Oculemasu, cioè farei tardi. A scuola. Gakuni, cioè andando a scuola. Vai a scuola e l'altro. Detta la mette. Allora, adesso noi ci abbiamo fatto solo il toro. Allora, poi bisogna svuola velocizzare. Pensa che oggi, la scrittura kanji, già un po' si riesco a fare. Un paio di kanji, proprio, veloci. Allora abbiamo detto. Hayaku. Ho già dato. Nota che non lo mette in giappone. Ok. Hayaku. ok 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 che c il canto giusto, il congiuto, il semplovato, ok, il navigato, sta un po' giubato, è embalato quasi bene, quindi scriviamo in Aromachin, Aromachin, Okinaito, 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 GACO, GACO, con la O allungata, GACO, sempre queste O allungate che mi tocca andare a cercare una volta, GACO, lì, o quel basso, o quel basso, quindi in italiano, vi ho detto che se non ti alzi presto, fare i tagli a scuola, si, fare i tagli a scuola, questo, questo, fare i tagli, va, fare i tagli a scuola, Allora, iniziamo da parte, Okinaito, Okinaito è il verbo, in questo caso il verbo negativo, però sempre indicativo presente, Okinaito, quindi, se non ti alzi, se non ti alzi, presto, quindi, AYAKO è presto, l'avverbo, AYAYE sarebbe l'aggettivo presto, no? Velocemente, anzi, AYAYE velocemente, e AYAKO è l'aggettivo, è l'avverbo di tempo, quindi presto, veloce, anzi, AYAYE è veloce, l'aggettivo veloce, AYAYE, Ok, abbiamo finito il top, ovviamente abbiamo finito il top, il top è l'uco, il top è l'uco, Adesso facciamo YAYE, facciamo qua, facciamo qua, e si chiamano YAYE, YAYE, guarda, tu cance, il YAYE, 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 il top è l'uco, spazio, e facciamo YAYE, allora YAYE ha un altro modo, quindi, di usare uno solo, quindi, faccio, allora, andiamo verso il trattino, si usa per unire due o più sostanti Y, quando, e numerazione è incompleta, quindi, si oprima il TO, e quando è completa, invece YAYE, e quando è completa, quindi, esempio da, ON YAYE, PEN, GAYE, ALMAS, ci sono LIB, PEN, eccetera, quindi, quando ci sono più cose, si nutre YAYE, quando, quando le cose sono certe, quindi, sono due o tre cose, invece, quando non si sa quante cose sono, si mette YAYE, come congiunzione, allora, quindi, si usa per unire due o più sostantivi, quando è numerazione, di numerazione, ma è comodo, sempre di numerazione, numerazione, incompleta, incompleta, una, linea, unire, complet, ok, allora, quindi, unire, quando è completa, quando è completa, si usa TO, quindi, quando è completa, si usa IA. ecco qua ok adesso andiamo ad esempio che già ho detto ci sono libri penne eccetera l'altro invece riprende le frasi di prima Tokyo, Ya, Na, anzi è un po' diverso e Ikimashita sono stato a Tokyo, Na, eccetera in questo caso c'è eccetera quindi sono stato a Tokyo, Na e altre cose apriamo questo, Na, on, Ya, penna, 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 Ya, penna, ga, hai basso, hai basso, ci sono libri penne eccetera, so, libri penne eccetera, 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 e quindi diciamo, Ya, in questo caso sono Ya, appunto unisce on e penna, però il conto è infinito, insomma è incompreta la numerazione, non si sa quante altre cose ci sono, quindi qua mette eccetera perché sarebbe la regola, però non si può rialzare la regola, quindi eccetera, che ti dice appunto che è incompreta, in specifico appunto che è incompreta, non ho detto che Tokyo, Na e Ikimashita sono stato a Tokyo, Na e eccetera, gli altri posti, un po' aspoia qua un po' che ho aspoia un po' to' che ho così un po' to' che ho così to' che to' che mi ha to' to' mi to' che ho così a' i aspo' e to' che ho to' che ho capito? iniziamo e to' to' Nara spieghiamo se Nara lo trova vediamo che Nara appunto nella città c'ha i Kaji particolari questo qua questo è il Kaji della provincia Nara 1 della provincia noi to' diamo solo Nara e ha perfettuato perfettamente un po' Nara e e Ikimashita 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 e e to' 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 Senza Ikimashita eccetera 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 e andiamo un po' più giù qua se no schiaccia sempre quindi qua iniziamo Ya iniziamo Ya e qua iniziamo eccetera non vuol dire Ya è appunto che una numerazione completa quindi unisci due o più sostanti di quale una numerazione completa e questa è questa Ya è la differenza tra Ya e To quindi adesso c'è Nara un'altra posposizione vediamo Nara 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 ok Nara vediamo Gassetto ok Nara Nara in questo caso questo significa proprio eccetera Nara lo vuol dire proprio eccetera in questo caso significa eccetera è una forza teoria che come si è detto sopra si usa in numerazione completa quindi una forza teoria questo vuol dire proprio eccetera Nara Nara si usa in sei maglia infatti qua qua Nara significa eccetera 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 è una forza teoria a forza a forza minimo di a che come si è detto sopra si usa il numero il numero il numero il numero il numero si usa per il numero il numero un numero e il numero in il numero in il numero in un numero il numero Proprio il significato di 10 è IA, quindi la forzativa di IA. In questo caso mettiamo qua la forzativa di IA, la forzativa di IA. Ok, quindi ascoliamo l'esempio. Allora, adesso aggiungiamo l'esempio. Allora, è semplice di fare quello prima. Ho comprato il libro, il quaderno, la pena, eccetera. Ci sono due IA. Ho comprato il libro, il quaderno, la pena, eccetera. Noto sarebbe note, quindi il quaderno, in inglese sarebbe note. Molte parole ho avuto in inglese, in giapponesia sono prese dall'inglese. Molte parole modelle, insomma, che esista quella parola quaderno, in giapponesia però non si usa. ma io usano molte parole derivanti dall'inglese. Ma sto a piacere di inglese. Allora, ONA, IA, IA, HA, NO 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 per scrivere in capa e cana ci serve un po' i problemi si apre per cana quindi ho la lingua in capa e cana e questo qua e questo è tutto no deve prestare a lungo devo trovarlo per qua non si trova mai non mi ricordo quando mi stai da lungo no, questo è la parentesi ecco ecco sarebbe un pen non è proprio a lungo preciso no no pen 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 nado adesso ritorniamo al al yagana torniamo al yagana qui il passaggio di nota tra yagana a katagana è un po' complicato un po' più bene nado nado o e karema shita no shita karema shita ok ok karema shita mi ah iagana 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 noto noto quella quella allungata che sarebbe not sarebbe not in inglese no quindi iquaderni no infatti i detti not è il quaderno della morte no no iagana con cittima no iagana 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 Quindi mettiamo le virgolette e rivolta, la virgolette, eccetera, eccetera, e rialziamo i partiti, andiamo, 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 qua, che sarebbe, eccetera. Poi quando facciamo un elenco, mettiamo una virgolette, mettiamo sempre e, 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 facciamo mettere un yaya, oppure tototot, dipende dal caso. L'elenco se è, appunto, completo, completo. Allora, c'è un altro senso, un altro senso, un altro senso. Sono andati distribuiti, sono andati, distrutti, le case, i ponti, eccetera Questo porta un po', questo tema, porta un po' scalabito questa cosa Allora, scriviamo, dice, ii, ii, vediamo se è già, ii, ecco qua, ii, bisogna vedere di casa, ii, ii, asci, sono i punti, asci, asci sono, sia i punti che le bacchette, asci. Non ci guardiamo se hai ragione, asci d'ora, ora, insomma, è la quattro vado, quindi va a cercare le due asci, asci d'ora, è questa qua, sì, è questa qua, questo qua, asci, e con più c'è trovate, insomma, tocca cercare le gange, Anshi, Nado, Nado, Ga, Kowai Maschita, 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 Kowai Maschita Sono andati gli strutti, le case, i punti, i punti, i punti, i punti, i punti, i punti. Eccetera, 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 quindi evidenziamo, nato, nato, punto game, quindi eccetera, ricrea forza, punto real. Ah qua è scritto mai, il grazie, ecco il grazie, non mi dà perché non mi dà il correttore, il correttore automatico lo tengo, lo tengo disattivato perché se no ho tutte le parole in giapponese mi dà tutte le strisce qua. La tua lineatura rossa ci serve, allora il correttore automatico non lo tengo, devo stare attento quando lo scrivo, lo tagliamo perché se no, se c'è lavoro non mi dà poco. Ok, il grazie è finito, abbiamo finito il grazie. Ok, ora facciamo il tè, il tè c'ha due modi di usare il tè. Ok, ora facciamo il tè, il tè c'è il tè. Ora è messo. Allora. Sì. No, no, te ne ha mai. Beh, te ne ha che basta. Ecco. E che te ne ti ha chiamato. Quindi te ne ha. Ok. No, prendiamo il cassetto. Allora, dice. Il testo si entra in modo. Intanto c'è solo un'altra cosa. Allora, la forma sta del verbo. Ecco. No. Allora, dice. La forma sta del verbo e del aggettivo i coniugato orientare d le questioni euforiche. Quindi, come ho detto, trovate il tempo di orientare d le questioni euforiche. Dato che, almeno un goccio là. la forma del verbo e del aggettivo con il diventato diventato i coniugato diventare D per questioni eufoniche. Dall'attentale greco è un nostro buon suono, cioè un suono buono che si sente bene all'orecchia e non dà fastidio. serve a, adesso andiamo, serve a due punti. Allora iniziamo, forma te, forma te, aspettiamo anche il cassetto di storia di meglio. Abbiamo dell'aggettivo coniugato, l'aggettivo I coniugato, orientare D per questioni eufoniche. Ok, ecco il segnale. A cosa serve? Allora serve uno, quindi sono due casi, coniugare rispettivamente due congiugazioni, scongiungere rispettivamente due o più aggettivi, oppure due o più proposizioni. si può unire due adeggettivi, quindi due frasi, quindi coniugare, cosiugare, coniugare, 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 coniugare. ispettivamente due aggettivi oppure due o più proposizioni, due frasi. gli aspetti, oppure due o più proposizioni, oppure, 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 oppure dire che si confondiamo, adi postposizioni dopo un po' inizia, Le proposizioni, cioè le basi, proposizioni, aggettivo, proposizioni, ok, adesso vediamo un esempio, qua ci sono tre esempi, so, vediamo due esempi. Una macchia veloce e silenziosa, quindi unisce l'ayaku che è veloce, l'aggettivo è silenziosa, quindi unisce i due aggettivi, l'aggettivo è l'aggettivo, perché l'aggettivo è il silenzio, sono quegli aggettivi che si formano dalle parole. quindi ci giuca l'aggettivo, 9... ci giuca l'aggettivo silenzio. Shizuka 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 Kuguma che è la macchina Kuguma che è l'automobile e la macchina Yumaji Yaku 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 Shizuka 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 Kuguma Kuguma In italiano La macchina veloce è sensosa 1 Veloce 1 Silenzosa 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 Iniziamo le parti Allora Qua si evidenzia il te Il te Ok Iniziamo il te Sarebbe la e Qua La congiunzione Quindi La congiunzione Veloce E silenzosa Minunisce i due aggettivi Ok Adesso diamo l'altra frase Oh Che è successo? Guardate Salvando Il computer Ecco Usato Sub 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 Il programma Finito Altra frase Ah Ok Ecco Qua c'è la frase con il verbo Sapete Nonde Shaperimas Mangiamo Beviamo E chiacchiamo Nonde Non è non te Ma è eufonia Quindi per Per questo linfone Per la cione linfone che mi dice Abbiamo eufonia Quindi c'è nonde Mi sarebbe bere Tabete Nonde Shaperimas Mangiamo Viiamo Chiacchiamo Sarebbe e E e e Mangiamo E viviamo E chiacchieriamo Lo mettiamo a virgola Perché mettiamo virgola virgola Poi mettiamo la rai finale In italiano si fa Quando si fa l'esameco si fa virgola 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 Poi l'ultima parola si congiunge con la e Invece già poi sentite con e e E In una concatenazione di e Questo cazzo è il te Allora Allora Adesso Ecco Vedete Quando Cliccio il tasto Mi scatta Dalla Dalla Alla proprietaria Non so perché Va così Allora Tabete Stare Tabete Tabete Nonde Farqua Acrita Norte E Dalla Cliccio il tasto Chiacchiamo 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 Magara Posso Persi Senza Cacchiamo ci ha bevuto ci ha bevuto ci ha bevuto davete dove dove ci ha bevuto ci ha bevuto ci ha bevuto ci ha bevuto in italiano mangiamo, beviamo e chiacchiamo 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 chiacchieriamo chiacchieriamo in italiano fa una difficoltà in italiano è molto difficile queste parole chiacchieriamo insomma in sacco dei risaliamo ok quindi la evidenziale sape la evidenziale la virgola c'è anche la virgola chiacchieriamo chiacchieriamo la condizion sape te qual è te ma in onde non te chiacchieriamo 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 poi c'è un altro esempio ghinza e ite shokuji o shimasu vado a ghinza e poi mangio questo unisce due frasi quindi vado a ghinza e poi mangio prima vado poi mangio quindi unisce due proposizioni vado a ghinza e quindi che sapete chiacchieriamo 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 hai fatto i哪i sbachalli che marino chiacchieriamo jiet i te i te questo ok 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 facciamo l'interfasso quindi ora Kinza Kinza Inza Inza Ite Inza Ite Shokuji 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 Chimas In italiano che ho detto che Pata Kinza e poi Pranzo Pata Kinza e poi Pranzo 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 Quindi iniziamo Il Te Il Te Il Te Qua serve E poi E poi E poi Pranzo Che fa appunto la concensione tra le due frasi Cioè Pata Kinza e poi Pranzo Quindi sono due frasi diverse Poi La seconda E' il secondo caso in cui si usa Te Intronore Una opposizione causale Quindi Intronore una o o Ho messo a scrivere la opposizione causale adesso vediamo il solito esempio allora vediamo un po' più e continuare magari ne fanno altri due perché sennò qua come detto ci vuole tanto se no andiamo fino a 5 dai per fare le proposizioni quindi allora esempio l'esempio è allora sono arrivato un intanto perché ho perso il treno quindi c'è la causalità, causalità il perché quindi serve perché ho perso il treno sono arrivato un intanto di kokushita sono arrivato un intanto quindi unisce l'altra frase introduce una proposizione causale che come trovate in giapponese in frasi secondarie si scrive sempre prima di quelle primarie quindi poi direte che è il resto dice sono arrivato un intanto perché ho perso il treno invece in giapponese serve perché ho perso il treno sono arrivato un intanto quindi lo mette prima o mette la frase la frase la frase teni sha teni sha il treno teni sha non so se conosciete un magro teni shotoku è uscito un po' un po' il tempo fa un po' di rifare ma è bello interessante divertente che poi è appreso da una storia fatta da scritta su telefonio ma è una cosa scritta su telefonio in tempi del inizio 2000 da vedrà i 10 alzio microdip che annuera dunque a volte vedremo quel magro lì interessante la storia del suo ragazzo incontra una ragazza solo su un treno poi se den shotoku il ragazzo è il treno den shotoku no 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 questo qua si un po' di che cico cuscita cico c allora c 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 che magari dici una cosa schinya mò di me c'è 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 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 9 10 11 13 14 15 16 16 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 19 19 19 20 21 21 22 22 23 20 24 24 25 25 22 23 24 25 25 Sarebbe anche un terzo, dove ho messo due, così. Allora, denota che la frase è interrogativa, quindi, come abbiamo detto spesso. Denota che la frase è interrogativa. Quindi iniziamo qua, interrogativa. Adesso diamo un esempio, una semplice frase di domanda. Allora, dice. Kono hanawa suki teska, le piace questo fiore? Il K, che è la frase interrogativa. Il K finale. Perché senza il K sarebbe Kono hanawa suki teska. Quindi, le piace questo fiore, è proprio l'affermativa. Quindi, a lei piace questo fiore, senza il Kano. La frase diventa affermativa. Non è più una domanda. Kono. Kono. Han. Rappiamo una da han. Ecco, saltami una da hanawa. Rappiamo una da hanawa suki teska. Ski. Sai be. Sai be. Sai be suki lo. Punti a ove. Gabi e me. Sai be suki. Ski. Ski. Suki. Yes. Anche a pevo, suki, dove è suki teska? E a te po' e poi, suki tesu. Sai be suki tesuka. Kono hanawa suki tesuka. naturalmente appunto le domande non c'è, non si mette, c'è K appunto che nella fase dell'interrogativo non c'è bisogno di queste domande, che però si promette che già poi se si usa appunto le domande e dare enfasi alla domanda, però di solito basta il K, mi piace questo fiore, tagliamo il K, e qua evidenziamo il punto di domanda, perché è quello che rende, che dà significato qua, ecco qua, adesso si vede poco qua, insomma, è quello che mi ha iniziato, secondo modo in cui si usa K, ha il valore di congiunzione disgiuntiva, congiunzione disgiuntiva, insomma, che congiunge e poi disgiunge, insomma, la cosa, la grammatica, che ci sono certe parole delle grammatiche, che sarebbe la O, insomma, per fare la parola di la O, sarebbe, di un K, ha il valore di congiunzione disgiuntiva, un valore di congiunzione, con, con, se ho, se ho, che congiunge e poi disgiunge, insomma, è una cosa, proprio, di un valore di congiunzione disgiuntiva, quindi, che, che divide, insomma, serve la O, adesso, diamo, appunto, la frase, Allora, niongina, ha, ka, shugoku jina, quindi, un giapponese o un jina, esatto, niongina, ka, chugoku, chugoku, chugoku jina, si scrive così, chugoku jina, chugoku jina, che, letteralmente, sarebbe il paese di mezzo, infatti, ciapponese, anche CS, si dice, su un goku, sarebbe, paese di mezzo, questo vuol dire, paese, questo vuol dire, in mezzo, paese di mezzo, sarebbe, la cina, lo chiamo, cina, però, sarebbe il paese di mezzo, quindi, adesso, chiamiamo il punto che sono, da qua, la cina, non mi dà, quando ho da capo, non mi dà il maiusco, a, 2, joncina, un,ıyorum, cina, ka, chugoku, la, u, allungata, adesso, cerchiamo l'allungata, qua, bisogna cercare, qua, cerchiamo, la, u, allungata, allora, non ce l'ho, la, u, allungata, un giapponesi o un cinese un giapponesi o un cinese allora quindi la congenzione o in quanto è in fondo frase diventa dal significato di frase interrogativa quando invece in mezzo delle parole diventa o poi c'è un'altra cosa il unione con toca corrisponde all'espressione se puntini puntini o quindi questo sarebbe una una terza quindi non l'ho numerato in unione ci metto i perché quando si usa sulla gramatia non c'è quindi mettiamo un 2b mettiamo che è un un in più del qualcosa in più rispetto al 2 quindi sempre disgiunzione disgiunzione il unione con doca corrisponde all'espressione se puntini 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 o no adesso diamo esempio corrisponde all'espressione se puntini puntini o no l'espressione se puntini 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 o no iniziamo qua un attimo doca doca quindi se o no se puntini puntini o no quindi se una cosa oppure no adesso diamo un esempio capirete meglio avviare un po' l'esempio イク カ トカ オカイマセン non so se ci vado o no quindi イク アンダレ カ トカ quindi イセ ci vado perché il verbo vette prima イク カ トカ オカイマセン quindi non so オカイマセン non sapere オカイマセン è negativo quindi non so se ci vado o no se ci vado o no イク アンダレ カイマセン ecco me lo dà perché va sempre così カオカイマセン in japonese ma non me lo dà in japonese イク カイマセン devo andare a cliccare イク カ トカ 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 è un'altra トカ 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 i call イク カ トカ トカ sempre con la logata トカ 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 ソニ ソニ e qua sono un 5 3 4 so 2 mi scrivo qua poi Poi fare nel altro non so se ci vado o no non so se qua non so se ci vado o no quindi k do k qui iniziamo k do k e qua è se o no se o no se ci vado o poi no ora qua ho messo ok ok togliamo il cassetto anzi si è via il cassetto allora facciamo un altro e poi basta facciamo male ci sono solo due significati facciamo male poi basta siamo qua poi fare le altre non facciamo il tempo ah no male quindi tagliamo quindi da qua cinque ok 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 abbiamo due significati uguali ora allora significa fino a di luogo o di tempo quindi fino a male di luogo o di tempo di luogo o di tempo ok 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 allora filo a questo è qui un significato di male scusate un pochino la voce mi andiamo via cioè già che io di solito la voce non è che c'ho tanto eh guardate devo guardare allora scriviamo la frase ah ci sono due frasi Milano Marte vado fino a Milano questa di luogo poi il tempo invece c'è Sanji Marte Gakuni i Masi sono a scuola fino a tre mese di tempo Marte vuol dire fino a fin da un luogo o fino a un certo tempo allora vediamo questa ora abbiamo detto Milano come detto la torta Milano e sarebbe Milano che è in Giappone in Giappone in Giapponesi dicono Milano che poi c'è un po' quella che Milano è un altro paese perché Milano è un paese in provincia è in Veneto adesso non mi ricordo mai ma dovrebbe essere in Veneto un Milano una R quindi i Giapponesi dovrebbero stare attenti a quando scrivono attenti ma non scrivono in inizio se si sbagli ma ok i Giapponesi i Giapponesi i Giapponesi la scrivo in inizio la scrivo invece la manda la maletta a Milano la manda a Milano ah no quindi scrivo l'immagine Milano Milano Marte i Giapponesi i Giapponesi i Giapponesi i Giapponesi quindi vi agli Milano sì quindi fino a Milano quindi we agli fino a Milano quindi in senso di luogo di tempo di spazio mi serve luogo Mentre, guarda, il tempo è Sanji, Made, Gakuni, Imasu Gakuni, Imasu Quindi sono a scuola fino all'etri Sanji, qui è sempre due a terza terza opere Sanji Sanji è quel qua Sanji è quel qua Sanji Made Mentre Gakuni, sempre a scuola Gakuni Gakuni Imasu Gakuni Imasu Gakuni 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 Sanji Sence Gakuni 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 quindi immagini immagini quindi sono scuola fino al 3 sono 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 1 2 2 3 3 quindi 3 3 ok ora vediamo il secondo significato di madre e poi facciamo basta seguito da lì significa entro quindi madre lì Ketsuyo madre lì kaete kudasai torni entro lì Ketsuyo cioè due di sei entro quindi parte lì sarebbe entro allora seguito quindi seguito i significa entro 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 ok seguito seguito appunto questo esempio allora Ketsuyo madre lì kaete kudasai quindi torni entro lì Ketsuyo è due di me abbiamo visto i nomi delle settimane quando abbiamo fatto i numerari c'erano anche i nomi delle settimane i nomi dei giorni delle settimane comunque ho fatto ho fatto anche una scheda articolare sui nomi delle settimane una delle prime lezioni che ho fatto Ketsuyo 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 ecco qua Ketsuyo 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 è sempre Ketsuyo ma Luca qui è abbigliato Ketsuyo senza il secondo cangio il terzo cangio che serve il giorno invece Ketsuyo è abbigliato Ketsuyo 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 sempre Getsuyovi, il nome completo è Getsuyovi, si può fare anche a previare Getsuyovi, vale, Karete Urasai, Karete Urasai Urasai, quindi torri entro Udi, torri entro Ude, ok? E qui ci vediamo, adesso facciamo un po' di cance proprio velocemente, io voglio fare sempre, faccio sempre un video, faccio insomma un po' di, di, insomma, più di dieci, mi pensa che facciamo cinque, io ho quattro, non la faccio male, quattro lezioni non la faccio, non basta, mi tocca male cinque, perché le costruizioni sono tante. Allora, adesso usiamo il libro di cance, qua salviamo, qua salviamo, salviamo qua, chiudiamo, e apriamo, e apriamo il, il disegno di cance, il colpente, il disegno paint, non va bene, facciamo due, due o tre, non velocemente, perché è giusto per farlo, perché sono quasi dei sei, quindi devo staccare, perché guarda in piedi, allora, qua si viene luce, allora, vediamo, allora, questo qua è un verb, qua, un verb, allora si vede? Si, ok, si vede, allora questo, allora qua su, è lettura, lettura lacuna, cioè le origine giapponesa, e io è lettura o, le origine cinese, che significa mostrare e scrivere, quindi un verb, se riesco a tenere un altro video, che non ci sta male, guarda, adesso andiamo, se riesco a disegnare, che c'è sto microfono, come giro, allora sono, 8 tratti, 8 tratti, ad oggi, 9, 8 tratti, 9 tratti, 8 tratti, 9 tratti, 10 tratti, così bene, questo punto è arawaso, vuol dire, mostrare, esprimere, adesso lo scriviamo in yagana perché ho scritto qui arawaso, qui ho scritto qui arawaso? sui. E questa è la prima volta che guarda. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. E' la parte che guarda. E' la parte che guarda. Quindi, schiavo qua e qui, con il appito che la schiavo e disegnare. Qua. Su. Qua, qua, su. Qua, qua, su. Metà le tue, a On e mi dimentica in cienese è... Yoh. Qui ho, aspiare. Io schiamo in catacamo. Quindi... Yoh. Quindi schiavo. Io, 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 ecco, quindi questo è Hamasu yo, che significa mostrare e spiegare. Ora vediamo, facciamo un altro, facciamo un altro, facciamo un altro, non riesco, ah, l'avevo visto prima. Ma, dicevo qui, ma not, no? Qual è che si dice not in inglese, in giapponesia, no? La parola sua vera è, cio, valendo proprio cio, dicevo per favore. Nel senso libro c'è scritto not, quindi è la versione inglesizzata, da inglese, insomma. Invece la parola proprio giapponesia è cio, che è pronuncia ono, quindi solo dove c'è il cilindro. Cio, che significa appunto, infatti denpa cio è la guida del palco, se ne fa c'è il cilindro, denpa cio. Adesso l'abbiamo fatto lo sponso, vabbè. Da dove si chiama così, in italiano si chiama così. Comunque, elenco telefonico. La guida telefonica, anzi, in questo caso, non so se è l'elenco telefonico o, nel senso, la rubrica, la rubrica telefonica, ma no, credo no, è guida telefonica. Sa che non lo so, non so se si fa c'è l'elenco telefonico, quindi libro, oppure alla rubrica, no, credo no, scrive ciao un libretto, infatti un libretto scrivi, sei lo quaderno, mi sa che colore, guarda, il mio telefono, mi sa che colore. Cio, un libretto di due e un anno, ma tra il mio telefono. Deve essere quello, mi sa, vediamo qua ciò. Adesso non sono sicuro, bisogna che faccia un incerto, non sono sicuro. Comunque, ciò, che significa appunto, guarderlo, sono 11 tratti. Adesso, ho il 6, andro. Un attimo, ho fatto. Che ho fatto questo? Ah, sì, ho fatto. Ok. Eh, guardate, ho fatto il rollocio, il rich, di, guarda, guarda. Sal, adesso faccio un po' grande, che si vede bene. Sal, guarda. Qua. Guarda. 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 e questo è ciò, devo dire quadrato, invece di dire noto, quindi dall'inglese questa è la parola in giapponesi, ciò. E' una schiavamo in katakana perché è un po' in giappone, quindi diciamo ciò, così, in katakana, diciamo ciò, così, ciò, aspettate, la lunga ho messo un po' mai, la chiave qua, 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 la lunga, ok. E con questo finiamo perché, dopo, oggi è tale, l'ho fatta di un solo oggi, ok, ho scritto la cance, l'appassionata noi, quando avremo più tempo li farò, li farò molto di più, quando troverò lezione un po' più volte, mi hanno, molto di più, di più di cance. Ah, questo è un tema, qua, dopo lo salvo, qua, qui, qua, aspettiamo, finito la, allora, speriamo che il microfono sia sentito bene, adesso dopo, appena ho finito lo skype, quindi, da, come ho detto all'inizio, io mi scarico, il video mi scarico da, la truce, io, non mi registro, metto, metto, metto mani in live, quindi, non mi ricerco più, e lo, io la faccio, andavo in diretta a registrare, quindi lo scarico da, la truce, e qui, se c'è il problema, che, funziona bene, anche, purtroppo, è così. Infatti, quello di, come ho detto all'inizio, quello di, il martedì, e mi troppo male, adesso lo rifaccio, quindi, lo rifaccio, la live di martedì, perché, ci tengo qua live, perché, parlavo, appunto, di, la truce giapponesa, parlavo di, 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 natsume, soziki, quindi, la voglio rifare, invece, l'audio, purtroppo, non funziona, non è avuto bene, perché, come ho detto all'inizio, la live, mi ha seguito, ho detto che ho usato, ho messo su il microfono nuovo, questo qua, che sta usando adesso, il microfono nuovo, e, e, purtroppo, non è assettato male, quindi, non è avesso bene, la campionatura, dei, i becchiai, i hertz, quindi, il sistema, il sistema, il sistema, l'audio, insomma, l'audio, quindi, io, ancora, in live, come c'è, quindi, su, su Twitch, ancora c'è, la live, la lascio, lì, tanto, fa 10 giorni, magari, ehm, però, adesso, la rifaccio, quindi, la rifaccio, fuori live, la registro, e poi la metto su, su YouTube, completo, con l'audio, che si sente bene, quindi, la rifaccio, adesso, c'è tempo, domani, la rifaccio, quindi, per s'audio, se riesco, è pubblico, adesso, domani, pubblico, ho questa, intanto, ho pubblico, questa, e, quindi, la trovate, insomma, insomma, le altre, quindi, spero che queste live, siano interessanti, vi piacciono, insomma, le lezioni di lingua giapponesi, spero che, siano interessanti, divertenti, insomma, che, possono essere utili, insomma, e, e, poi, anche, le altre live che faccio, quindi, a martedì, quando parlo di letteratura giapponesi, o di, o di manga, spero che, ti piaccia bene, e, poi, il sabato, quando noi ci parliamo, un po', il primo gioco, un po', e, poi, adesso, vediamo, anche, qualche video, di storia giapponesi, insomma, video, sul, sul Giappone, ce la vedremo nel prossimo, il video, il terzo video della serie, che ho fatto già, due video, abbiamo visto, e, interessanti, che, poi, appunto, dell'epoca, sciolico, dell'epoca, 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 quindi, vediamo, come finisce, quando, non ho visto un video, vedo, inseriamo, quindi, intanto, metto pausa, commento, quindi, niente, spero che questo canale, questo canale, vi piaccia, se siete interessanti, e, quindi, se volete, seguirmi, insomma, seguite, qui, sul canale, trovate, qui, tutti, i link, il canale YouTube, dove pubblico sempre i like, quindi, trovate, trovate, questa, qui, appunto, questa, quella, per esempio, che ho fatto, le edizioni in Guagia Poese, e a tutti gli altri video, trovate, su canale YouTube, trovate, anche, i video, che faccio, quando esco in bicicletta, adesso, vediamo, il prima possibile, adesso, se stiamo a passare, se ne potrò, analizzare, giallo, qui, speriamo, per maggio, quando ci sarà, tempo buono, è abbastanza, anche più luce, così, quanto questo, che, posso andare, a fare, qualche altro video, nuovo, e fare, vedere, qualche posto, qui, da poi, c'è ancora, qui, già, ci sono 21 video, che trovate, su, sul canale YouTube, già, posti, che ho fatto vedere, quindi, di, paesi, qui, anche, storici, bei posti, a vedere, qui, che ho girato, qui, ho visitato, l'altro, quindi, quando si potrà uscire, ancora, e, e, quindi, trovate, spero di farlo, a caso, un video, perché c'è ancora qualche posto, che non ho fatto, che non sono andato a vedere in bicicletta, quindi, qualche altro video, e trovate, appunto, lì, su canale YouTube, trovate, anche, i video, dei live, che faccio, qui, su Twitch, trovate, su, 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 canale YouTube, quindi, tenete, sotto controllo, canale YouTube, iscrivete, canale YouTube, iscrivete, anche, qui, al canale Twitch, così, facciamo crescere, più iscritti, soli, e, guai, e, poi, c'è la pagina Facebook, io metto, sempre, gli annunci, di like, e, poi, c'è la pagina Instagram, metto, vari corsi, vari disegni e foto, e, di merito, a combattere, io ci avrei comprito, quindi, queste sono le modi, che avete, per, contattarvi, oltre al chat, qui, dovete, chattarvi, anche, al sabato, quindi, potete, farmi, come dico sempre, durante, questi chat, queste live, potete, chattarvi, naturalmente, però, al sabato, proprio, quella specifica, perché metto, metto il gioco, o poi metto, a vedere il video, posso fermarmi, l'ho cambiato, e, e, possiamo parlare, quindi, potete, farmi, anche, delle domande, su, queste live, su queste lezioni, di un po' giapponese, oppure, su quelle demand, ovviamente, la tua giapponese, insomma, se, 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 posso rispondere, se, 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 sono, gravi, rispondi, risponderò, se, volete, domandami, qualcosa, ma, anche, io, per parlare, sono, chiacchiare, quindi, se, volete sostenermi, sostenere il mio canale, potete, fare, qui, guardo azzolete, su, su, o su, su coffee.com, vi trovate qui il link, oppure, acquistando il mio libro, acquistando il mio libro, che trovate a 5 euro, su Amazon, è un libro, di poesie, aforismi, e disegni, trafici, che ho fatto, sia, ci sono, sia foto di disegni, proprio dipinto, sia, di dipinto, proprio pennello, sia disegni fatti con la computer, quindi aerografici, e niente, quindi spero che questo vi piaccia e siano interessati e facciamo crescere questo canale, quindi diffondete e fate sapere che c'è questo canale, Tacco Biker, sia qui su Twitch che su YouTube, e niente, quindi ci vediamo, allora, sabato, come ho detto, facciamo un live di gioco, continuo con il serie, adesso qui alla prima di fare la group, sono stato un po' a giocare con il serie di video, per cercare di andare avanti, quindi sono riuscito ad andare avanti a superare il boss di primo livello, facciamo il secondo livello, adesso ci riprogrammo in diretta, si riesco superando comunque il primo livello, e poi facciamo il secondo, continuiamo il secondo. È difficile quel gioco, è difficile perché se ho poche volte ti muori subito, sembrano giochi facili, invece giochi oggigiorno sono molto più facili, quindi una volta è difficile, giochi vinti a generale 80, quindi, e poi vediamo questo video, il terzo video della serie su la strada di Giappone, erano arrivati in Yastro, che aveva preso il potere, quindi, perché ha visto i video precedenti, quindi, e c'è stata la persecuzione contro i cristiani, e poi c'è stata anche la chiusura, la chiusura di Giappone, quindi aveva deciso di chiudere le frontiere, quindi nel periodo della chiusura delle frontiere, vedremo, e la titola no, sembra, l'aiuto di Barbara, insomma, l'apertura delle frontiere, quindi, sarebbe metà l'ottocento, proprio, nevo camminici, quando è caduto, scioglato, presso il potere, l'imperatore, quindi, vedremo quello, e poi, martedì posto, parleremo di banca, faremo di banca, ciò ho preparato, chi parleremo, proprio, dico, sabato, chi parleremo, quindi, martedì posto, parleremo di banca. Il momento online precedente, che ho fatto martedì scorso, la rifaccio, domani, se dovrai riuscire a farlo, quando mi diceva, la registro, più o meno che la faccio, quella diretta, la registro, e poi la metto su YouTube, quindi la trovate su un po'. E niente, allora, spero che questi ne sono testati, ci vediamo questa volta, lì a sabato, quindi, un saluto a tutti a Tokubaki, alla prossima.